Caffè Pasticceria La Repubblica a Prato, classico punto di ritrovo per colazioni e paste notturne. Un posto unico dove i dolci diventano opere d'arte. Caffè Pasticceria La Repubblica, una sosta imperdibile a qualsiasi ora, con prodotti freschi appena sfornati e sempre all'altezza del palato più esigente. E se sei un amante della vita notturna, dopo una serata in discoteca, vuoi fare un piccolo spuntino? Il Caffè Pasticceria La Repubblica è il posto giusto per te. Ci trovi in Viale della Repubblica 156 a Prato.